Vogliamo creare in Excel un foglio che ci faciliti la gestione dei turni di lavoro del personale. Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Eccoci ad un nuovo tutorial di Excel. In questo video iniziamo a creare un gestionale turni di lavoro. Vogliamo fare un foglio Excel che ci aiuti a comporre i turni di lavoro con più facilità, magari automaticamente. C'è da dire a questo proposito che ci sono una infinità di esigenze per quanto riguarda i turni di lavoro, perché ci sono un'infinità di situazioni diverse, per cui è difficile trovare qualcosa di già pronto che faccia al caso nostro. O è troppo semplice, quindi non prende in considerazione il nostro caso, o è troppo complesso, quindi al contrario prende in considerazione mille casi, però poi quando si tratta di utilizzarlo diventa difficile. Quindi la soluzione ottimale è quella di far da sé. Quindi vogliamo creare da soli un foglio di lavoro che ci aiuti a gestire i turni della nostra attività. Ora, ovviamente, tutti quanti avranno situazioni diverse, quindi noi partiamo con un esempio, ma tu puoi mandarci un'email a info-associazionemaggiolina.it scrivendo le tue esigenze e per il tipo di lavoro e per le cose che vuoi ottenere dal foglio di lavoro. Utilizzeremo i tuoi suggerimenti per sistemare al meglio il nostro, in modo che sia un foglio di lavoro di gestione turni il più completo possibile. Sarà possibile, inoltre, scaricare questo file che mi vedi utilizzare dai soliti canali, ovvero scrivendo a esercizi.excel.chioccio.associazionemaggiolina.it oppure entrando a far parte del sito Amici di Maggiolina. Bene, andiamo a cominciare. E nel farlo non vogliamo metterci subito la pressione di creare un gestionale super completo. Vogliamo cominciare come si farebbe nella realtà. Quindi ci diciamo, vabbè, come prima cosa ho bisogno di uno schemino dove andare ad inserire i turni, vedere quali sono i turni, vedere chi è il personale e semplicemente scrivere dentro a questo schemino le persone. Quindi un modo più ordinato di presentare i turni al personale, ma soprattutto di organizzarli. Poi, un po' alla volta, utilizzando questo foglio, andremo a automatizzare quelle operazioni ripetitive o noiose che magari ci dà fastidio fare. Quindi partiamo piano per far crescere un po' alla volta il nostro programma. In questo modo possiamo riuscire ad ottenere il risultato. Nel nostro esempio facciamo finta di avere un bar presso un centro commerciale. Quindi un bar aperto tutti i giorni della settimana in un orario ampio, 12 ore, dalle 9 di mattina alle 21 di sera. In questo modo dovremo gestire i turni del personale, dovremo gestire la festività e quindi il riposo del personale e cercare di fare le cose un po' eque, sia da un punto di vista orario lavorativo, sia da un punto di vista di turnazione. Allora, cominciamo ad andare a scrivere l'intestazione. Per cui mettiamo turni di lavoro, bar, associazione, maggiolina, centro commerciale, la sirenetta. Ok, cominciamo facendo una turnazione settimanale. Il bar è aperto dal lunedì alla domenica, quindi tutti i giorni. Vediamo chi si deve presentare al lavoro lunedì, chi martedì, chi mercoledì, eccetera. Quindi facciamo una prima tabellina settimanale. Parto da lunedì, quindi vado ad inserire il giorno, utilizzo le serie per rascinare, quindi ottenere tutti gli altri giorni della settimana, eccoci qua, e siamo arrivati a domenica. Ingrandiamo un po' il nostro foglio, così lavoriamo su una schermata un po' più grande. Ok, andiamo ad identificare i turni. Decidiamo che il primo turno, quello del mattino, è di 6 ore, ovvero dalle 9 alle 15 di mattina. Quindi 9 trattino 15, primo turno. Bene, allarghiamo la colonna. Eccoci, facciamo una colonna di stacco, in modo che ci sia una separazione tra l'una e l'altra. Poi andiamo ad inserire il turno pomeridiano, quindi pomeriggio, e lo facciamo dalle 15 alle 21. Altre 6 ore, quindi dalle 15 alle 21 fino a chiusura negozio. Perfetto. Ingrandisco, e ci siamo. E ora mi dico, durante la pausa pranzo, è il momento in cui il bar lavora di più. Quindi sarebbe bene che durante quell'orario ci fosse una persona in più a lavorare. E quindi vorrei inserire anche un turno pranzo che copra appunto l'orario del pranzo, e anche in questo caso un turno di 6 ore. In questo caso devo inserirlo tra il mattino e il pomeriggio. Quindi vado ad inserire una colonna, per cui inserisci. Di nuovo inserisco un'altra colonna, tasto destro inserisci, così scriverò in questa colonna centrale, e le altre due piccole serviranno per separare il turno. Guardo l'appunto che mi sono preso, e il turno della pausa pranzo lo facciamo dalle 11 alle 17. Certo, è una pausa pranzo un po' lunga, però abbiamo visto che nel nostro bar è un momento di maggior lavoro. In questo modo abbiamo anche sempre una persona presente al bar in pieno lavoro, quando al mattino finisce il turno delle 15, e al pomeriggio inizia quello delle 15, quindi durante il cambio, c'è comunque una persona in mezzo che è a pieno titolo, in pieno orario di lavoro, e quindi può gestire le cose. Ok, a questo punto direi che andiamo ad inserire il personale. Quindi vado in questa posizione, scrivo personale, e aggiungiamo le persone. E in questo caso, nomi a caso, allora Marta, Paola, Gianluca. Andiamo a dare una formattazione grafica, quindi grassetto, 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 allarghiamo la nostra colonna, e grassetto anche al titolo, e magari lo scriviamo un po' più in grande. Perfetto. Ora andiamo a provare a comporre i turni, per cui al mattino magari metto Marta, e la facciamo per tutte le mattine. Poi, a pausa pranzo, vado a mettere Paola, e anche lei fa tutte le pause pranzo, e il pomeriggio invece sarà la volta di Gianluca. E anche lui fa tutti i pomeriggi. Ok, però a questo punto, guardando i nostri turni, che sono fin troppo facili da fare in questo modo, ci rendiamo conto che queste persone non fanno mai un riposo. Quindi vorrei poter gestire anche il riposo. Allora, intanto vado a scrivere riposo, quindi una nuova colonna per il riposo, la vado a mettere anche allineata al centro. Perfetto. E quindi, per poter dare il riposo a queste persone, devo inserire del nuovo personale. Per cui assumiamo anche Davide, che andrà a sostituire a turno le persone. Quindi al posto di Marta metto Davide, poi gli faccio fare la pausa pranzo in sostituzione di Paola, e poi gli faccio fare il pomeriggio in sostituzione di Gianluca. E cominciando a gestire queste cose, comincio a non essere più in grado di capire bene quante ore fa l'uno e quante ore fa l'altro. Quante ore fa Davide, quante ore fa Gianluca, Paola. Ho bisogno di un conteggio, quindi devo cominciare a contare le ore di lavoro del mio personale per rendermi conto di quanto sta lavorando e quindi gestire meglio i turni. Quindi vado a inserire un nuovo campo con ore settimanali. Ore settimanali. Allarghiamo la colonna. E a questo punto ho bisogno di avere un conteggio. Per fare questo conteggio cominciamo a scrivere delle formule. In questo caso mettiamo la formula del ContaSe. Quindi conta all'interno dell'intervallo dei miei turni se è presente Marta. Se è presente Marta, allora qui conteggiami le ore settimanali. Innanzitutto, per gestire l'intervallo dei turni e quindi per identificare queste celle, dovrò, nella formula che c'è in questa posizione, andare ad inserire dei dati, ovvero gli indirizzi delle celle. In questo caso sarà B4, quindi cella della colonna B, riga 4, dal lunedì, alla fine della domenica, quindi F10. Quindi l'indirizzo dell'intervallo di queste celle, di questi turni, è B4, due punti, F10. E mi troverò a scriverlo varie volte perché l'area dei turni mi servirà per varie formule. Quindi decido subito di dargli un'etichetta in modo da non dovermi continuamente ricordare B4, due punti, F10, perché mi risulta difficile. Quindi, in questa posizione, dopo aver selezionato l'area dei turni, vado a cliccare e a scrivere un nome. In questo modo, questa area assumerà quel nome e mi sarà più facile da identificare nelle formule. Vado a scrivere settimana 1, perché magari poi faremo i turni anche nelle settimane successive. Quindi quest'area si chiama settimana 1. Premo invio ed ecco fatto. Per cui, tutte le volte che andrò a dire settimana 1 nelle formule, il computer Excel dirà B4, due punti, F10. Perfetto. Cominciamo con la nostra formula del contasse. Quindi la formula del contasse si scrive in questo modo, uguale, conta punto se, aperta parentesi, nell'intervallo, quindi in settimana 1, ecco che viene richiamato, con la maiuscola, quindi devo ricordarmi le prossime volte di scriverlo correttamente. Ora ci clicco sopra due volte per riportarlo all'interno della formula. Conta se, in settimana 1, c'è scritto Marta. In questo modo vediamo quanti turni fa Marta. Quindi dopo settimana 1, punto e virgola, dovrei mettere Marta, il nome della persona che lavora. Ma la persona potrebbe anche cambiare. Io non voglio tanto che lui identifichi Marta come nome, ma voglio che identifichi il contenuto di questa cella. Quindi, premo su questa cella in modo che nella formula venga scritto K4. Per cui, se domani non ci sarà più Marta, ci sarà Elisabetta, ci sarà Giovanna, mi basterà scrivere in questa posizione Giovanna, inserire Giovanna nei turni e verrà conteggiata. Bene, chiudo la parentesi e premo invio. Perfetto. Marta fa 6 turni, quindi non 6 ore settimanali, ma 6 turni, perché è riportata in questo schema 6 volte. Quante ore sono 6 turni da 6 ore? Facciamoglielo calcolare direttamente. Per cui, torno nella mia formula e vado ad aggiungere per 6. Quindi, con la formula ContaSé ottengo quanti turni fa Marta, nel mio caso, per 6 mi viene trasformato in ore di lavoro. Premo invio ed ecco qua. Marta fa 36 ore settimanali. Abbrevio un po' questa scritta perché non mi piace così lunga. Quindi, settimanali, andiamo a rimpicciolire la nostra colonna e andiamo a dare anche in questo caso il grassetto. E ci siamo. Marta fa 36 ore settimanali. Lo stesso lavoro, quindi la stessa formula, devo impostare per tutti gli altri dipendenti. A questo punto, dato che qui ho utilizzato l'intervallo, posso semplicemente trascinare dal quadratino, quindi utilizzare le serie per ottenere la formula funzionante. In questo caso, vedo che c'è qualcosa che non va con Paola. Andiamo a controllare questa formula. Questa formula identifica K5. Proviamo a cancellarlo e a rimetterlo. Perfetto. Evidentemente c'era un qualcosa di diverso nella scritta e penso di identificare cosa fosse quel qualcosa di diverso. provo a riscriverlo così vediamo insieme se era quello il caso. Vado a riscrivere Paola spazio premo invio ed ecco che questo 0 sta a significare che non c'è il nome Paola spazio all'interno del mio turno orario. Quindi devo essere molto preciso nello scrivere il nome. Per cui va scritto Paola senza lo spazio. Lo correggo cliccando in quella posizione. Cancello lo spazio premo invio ed ecco che ora ho la situazione sotto controllo. Bene vedo innanzitutto che parte del mio personale lavora 36 ore e Davide lavora poco. Quindi potrei dare un ulteriore turno di riposo al mio personale per far lavorare un po' di più Davide ma soprattutto per dare alle persone un turno di riposo in più quindi i due giorni settimanali impiegando di più Davide. Per cui do un nuovo turno di riposo a Marta mettendo quindi Davide in questo modo posso vedere anche se funziona il tutto cambiando il nome vedo che Marta ora lavora 30 ore e Davide ne lavora 24. Diamo una sostituzione anche a Gianluca sempre con Davide e ci siamo. Rimane solo Paola che lavora 36 ore. In questo caso potrei decidere di tenere il turno così ma potrei anche dirmi ma tutto sommato il lunedì a pausa pranzo non c'è così tanta gente come gli altri giorni della settimana vuoi che sia la giornata vuoi che sia qualcos'altro ma c'è meno c'è meno lavoro quindi Paola la lasciamo a casa anche il lunedì in pausa pranzo per cui premo Canc per cancellare Paola ed ecco che ora il mio orario combacia ed ho ottenuto 30 ore settimanali per ognuna delle persone che lavorano nel mio bar e questo già mi aiuta nella gestione perché posso già rendermi conto dell'orario di lavoro di ognuno. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare sarebbe quella di gestire il riposo nel senso che io qui vedo le persone che lavorano e in teoria mi piacerebbe vedere in questo elenco anche il personale che è a riposo perché manca qualcuno voglio avere sott'occhio velocemente chi è disponibile quindi chi è a casa da poter eventualmente chiamare ma soprattutto vorrei anche capire quando fa il riposo ognuno dei collaboratori per cercare di gestire con un po' di equità perché magari c'è quello che fa sempre il riposo al sabato quello che fa sempre il riposo la domenica e agli altri potrebbe dare fastidio quindi potrei gestire meglio il mio foglio e i miei turmi per cercare di rendere le cose più eque nelle settimane successive bene nel prossimo video ci occuperemo di questa formula quindi di come fare in modo che Excel mi dica automaticamente chi c'è a riposo perché ovviamente posso guardare posso arrivarci anche per conto mio ma ipotizziamo di avere più personale o comunque ipotizziamo di non avere voglia di star qui a fare i vari calcolini poi soprattutto quando io sostituisco una persona cambia anche chi c'è a riposo e quindi voglio automatizzare questo lavoro quindi nel prossimo video vedremo come automatizzare la voce riposo poi vedremo come automatizzare la creazione dei turni quindi non dover mettermi personalmente a scrivere Davide Marta 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 ma semplicemente assegnare al personale un turno e la tabella dei turni si compila automaticamente ti aspetto al prossimo video nel frattempo ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto questo video e soprattutto a commentarlo con le tue domande con i tuoi suggerimenti con le tue esigenze in merito a questo argomento così possiamo completare meglio questo foglio di lavoro se non lo hai ancora fatto ti invito anche ad iscriverti al canale attivando la campanella in questo modo sarai avvisato all'uscita del prossimo video ti aspetto ciao 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 ciao